Pari e patta tra Nero Stellati e Monticelli nell'anticipo della quattordicesima giornata del Girone F di Serie D che mette di fronte le uniche due squadre ancora secco di vittorie e relegate agli ultimi due posti di una classifica che non fa registrare cambiamenti sostanziali dopo il match disputato al Pallozzi di Sulmona. I Peligni si presentano con Bruni in attacco, mentre il nucleo interno del centrocampo è formato dal trio Pacella, Vitone e Censori. Va a Conè e Giallonardo il compito di spingere sulle corsie laterali. Ancora sprovvissi di transfer invece il difensore Bizzin2 e l'attaccante Onwaki che siedono in tribuna. Dall'altra parte il tecnico Stallone dispone i suoi secondo i canoni di un elastico 3-5-2 con una difesa formata da Pierantozzi, Terrenzio e Sosi al centro e con Fazzini e Guerra a ripiegare sulle corsie laterali in fase di contenimento. In avanti il tandem pedalino De Vecchis, mentre in mediana agiscono Cocchieri, Gabrielli e Bontà con quest'ultimo sempre pronto agli inserimenti. Prima parte di gara all'insegna dell'equilibrio. Ci provano gli ospiti con un calcio piazzato di Gabrielli seguito da un'incertezza di parente con la difesa Peligna che chiude in corner. La squadra di Di Marzio copre bene il campo ma è evidente la poca incisività in attacco dove i parroni di casa si propongono prevalentemente con azioni di rimessa. Nella seconda parte del primo tempo, predominio territoriale del Monticelli che sale in avanti il proprio baricentro ma quando si materializza l'occasione più grande e De Vecchis a finire in fuori gioco. Al 33esimo, prima svolta del match. Censori è ingenuo nel protestare ancora dopo essere già stato ammonito e il direttore di gara estrae il cartellino rosso verso l'esperto centrocampista che lascia i nerostellati in inferiorità numerica per oltre un'ora. Il secondo tempo si apre con l'occasione sprecata da pedalino. Il pericolo scuote i nerostellati che con Bruni guadagnano il penalty trasformato da Pacella per il vantaggio dei Peligni che ritrovano un gol che mancava dalla quarta giornata di campionato. Il Monticelli si getta all'inseguimento del pari ma parente è reattivo sulla conclusione di Cocchieri. Il primo cambio ospite vede l'ingresso di guida per Fazzini. Gli ascolani protestano quando Bontà viene ammonito dopo un contatto con Di Rosa in area di rigore Pelignia. Ancora parente salva la propria porta sul tentativo di De Vecchis per gli ospiti che esercitano un forcing prolungato, forti anche della loro superiorità numerica. Iacobucci al posto di Di Rosa è la prima sostituzione operata da Di Marzio mentre dall'altra parte Ragazzu subentra a pedalino. Ancora ospiti in avanti ma la difesa nerostellata tiene botta con l'allenatore ospite a provarle tutte per riequilibrare il punteggio. Prima Gesue rileva Bontà e poi Ciabischi sostituisce Pierantozzi per mettere alle corde i nerostellati che superata la mezz'ora effettuano il secondo cambio con Palompizio che subentra a Capitan Vitone. Gli ospiti protestano ancora quando è ragazzo ad andare giù in area di rigore mentre l'ultima sostituzione marchigiana vede l'ingresso in campo di Petrarino per De Vecchis. Proprio il neoentrato all'ottantunesimo devia in rete la conclusione del centrale difensivo Sosi per il meritato pareggio del Monticelli che resta in avanti prestando il fianco al contropiede dei nerostellati pericolosi quando Cone arriva di poco in ritardo sul traversone di Palompizio. L'ultimo tentativo del Monticelli arriva con la conclusione di guerra che non inquarra lo specchio della porta Peligna finisce 1-1 con i nerostellati che masticano Amaro al termine di un match giocato non come si era pensato di fare alla vigilia a pesare l'espulsione di censori e l'impossibilità di schierare i neoacquisti ancora sprovvissi di transfer per il Monticelli un altro pareggio il settimo in queste prime 14 giornate di campionato. Mister Di Marzio tanta generosità l'avevate sbloccata però poi alla fine ha pesato quell'espulsione che vi ha lasciato per un'ora in inferiorità numerica. Sì, un'espulsione devo dire che stiamo lì vicino a noi esagerata, affrettata perché il fallo è stato dapprima invertito e poi ho capito, ci sta il battibecco, la goccia, c'è stato il giallo il giocatore stava andando via, dare il doppio giallo lì sinceramente ha condizionato tutta la partita. Devo dire bravissimi ai ragazzi perché non era facile, non era facile contro una squadra che poi ha buttato 4-5 persone davanti ha cercato attraverso le palle lunghe di metterci in difficoltà non avevamo concesso niente se non su qualche calcio piazzato ripartivamo pure, siamo ripartiti anche bene 2-3 volte sia con Conè però poi purtroppo la deabbendata è un po' di tempo che ci ha anche abbandonato perché c'è stato un tiro dalla tre quarti, una deviazione sfortunata che ci ha costretto tra virgolette a questo pareggio. Diciamo che quella che doveva essere un vantaggio per noi, la superiorità numerica è diventato un vantaggio ma non tanto sul piano del gioco come spesso succede che quando le squadre giocano in 10 poi trovano la motivazione in più per giocare meglio ma più che altro per l'atteggiamento dell'arbitro perché secondo me dopo questa espulsione che c'è stata l'atteggiamento è notevolmente cambiato e aь sto a a a Grazie.